Il sindaco Pasquale Caccella ha mandato in gita la BIT Gammarrota. A differenza di altri comuni, nessuna promozione turistica per Berlet. Si esprime in questi termini l'opposizione al comune della città della disfida. E' appassionante quanto travolgente il racconto dell'assessore al turismo del comune, Giuseppe Gammarrota, sulle sue gita la BIT 2016, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Affermano in una nota i capigruppo delle opposizioni Dario Damiani, Flavio Basile e Gennaro Cefola. Impeccabile, davvero cronista, la ricostruzione giornalistica dell'assessore, che in rappresentanza dell'amministrazione Caccella è stato alla BIT la più grande vetrina per il turismo italiano, senza un benché minimo straccio di programmazione e pianificazione. Lo stesso assessore, proseguono, ammette che per essere presenti alla BIT bisogna essere preparati, organizzati, in grado di offrire opportunità turistiche e attrattive. Ciò che il comune di Berletta, per le solite inadempienze e incapacità dell'amministrazione Caccella, non ha fatto. L'assessore Gammarrota ha annunciato inoltre che Berletta è stata inserita a Milano in una serie di progetti che ci vedono partner e sono stati presentati nel padiglione della Regione Puglia. Ci piacerebbe, si legge ancora nella nota dei capigruppo Damiani, Basile e Cefola, conoscere nel merito i suddetti progetti. E' altrettanto opportuno che il sindaco Caccella e l'assessore Gammarrota precisino ai cittadini quale programmazione turistica concernente Berletta hanno presentato alla BIT di Milano, quale promozione della rievocazione del certame della disfida, quale promozione del sito archeologico di Cane della Battaglia e delle gesta di Annibale, quale promozione del Castello Svevo Federiciano e del busto di Federico, del Polo Museale, della Pinacoteca de Nitis, di Palazzo della Mara, delle cento chiese di Berletta e delle tante bellezze che la storia ci ha donato. Altri comuni italiani del territorio hanno presentato le loro proposte, i loro eventi ed appuntamenti, addirittura per il calendario estivo. E Berletta? Ricordiamo che il turismo rappresentava uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del sindaco Caccella e del centrosinistra, ma ancora una volta parole, parole, soltanto parole. Noi, dalle opposizioni, concludono, denunciamo e condanniamo l'accaduto, fermamente convinti che il turismo rappresenti uno dei primi punti da sviluppare per la crescita della città di Berletta.